Di cacciatore? Sì, perché sa che c'è la lepre, la lepre che è davanti, il cacciatore che insegue la lepre, come detto da ferma rossa. Perché se c'è una lepre davanti, se c'è uno davanti c'è qualcuno dietro che insegue, come già con i guardi di Irlandi, è lo stesso, i guardi scappano, le guardi rincorrono.